Musica Furioso incendio divampato in un hotel nel pieno centro di Ponte Arche nel comune di Comano Terme Una cinquantina i vigili del fuoco impegnati, evacuati gli ospiti dell'hotel L'intervento è ancora in corso, il servizio di Raffaele Crocco Le cause sono ignote, gli effetti però si sono visti per tutto il pomeriggio Un violento incendio ha rischiato di distruggere l'hotel Posta a Ponte Arche nel comune di Comano Terme Ad essere colpita la mansarda dell'albergo che si trova sulla via principale di Comano E' stata praticamente divorata dalle fiamme Fortunatamente nessuno degli ospiti dell'hotel è rimasto coinvolto Sul posto sono arrivati i vigili volontari di Comano, i dintorni e i permanenti di Trento Tutti stanno ancora lavorando per domare le fiamme visibili a chilometri di distanza Il traffico è stato deviato su strade alternative Ancora nessuna notizia sulle cause del ruogo